Nel corso delle ultime giornate caratterizzate da tempo stabile con cielo sereno, forte irraggiamento solare di giorno e robusto rigelo notturno hanno permesso un consolidamento del manto nevoso a tutte le quote. I problemi principali sono rappresentati da residui, accumuli da vento sui versanti a nord più in quota che potrebbero cedere solo con forte sovraccarico e soprattutto bisogna prestare attenzione a partire dalla tarda mattinata alle quote medio-elevate dove il manto presenta strati interni deboli caratterizzati da neovagnata che con riscaldamento perdono coesione e quindi aumenta l'instabilità. Per il fine settimana sono previste deboli precipitazioni che non modificheranno sostanzialmente la condizione di stabilità del manto nevoso, bisognerà prestare attenzione anche qui nel corso delle ore più calde della giornata dove ci potranno essere dei piccoli scaricamenti superficiali. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS